Nel mondo ci sono sempre stati gli incanti. Incanti del sangue e incanti del febbo. Mi chiamo Nathan Byrne. Sei il figlio bastardo del diavolo in persona. Mio padre è Marco Segg. Spazzerà via la nostra razza finché non rimarrà nessuno. Perché non dovresti parlare con me? Lo sai perché? Per mio padre. Per tuo padre. Sembra che tua sorella ti odi, dico bene. Sei un incanto del sangue, non preferisci morire? Non sono un sangue. Allora che cosa sei? Non lo so. Scopri dove si trova. Entro la fine dell'anno riceverai il tuo potere. E cambierà la tua natura. Affrontiamo la situazione con un atteggiamento mentale positivo. Da chi state scappando? Dal consiglio del febbo. E i febbo ti danno la caccia perché... Il suo stesso sangue ucciderà il lupo. Devo uccidere mio padre. Scusami, di che sei figlio? Io ti troverò! Tu dovresti combattere uno dei più potenti intanto di tutti i tempi. È la cosa più stupida che abbia mai sentito. L'allenamento andava bene in realtà. Ti salveremo la vita, non si discute. Perché vuoi salvarmi? Perché serve a me. Tu non sei tuo padre. Sangue. Febbo. Non ho mai incontrato un incanto del sangue prima. Se loro fossero cattivi. Noi siamo cattivi. Non ho mai incontrato un fatto un merito. Grazie a tutti.